leone dai 9 metri e allora ambrosio chiama il suo secondo time out discrezionale sul terzo set point a disposizione in Perugia ma è il turno di battuta di Wilfredo Leon intanto un po' di storie tese tra Travizza e Leon con Aenem a fare da facere Colagi sostanzialmente supplica l'arbitro Cappello facci rientrare in campo per favore problemi in ricezione ha la possibilità di chiudere leone la chiude lui 31 29 la battaglia infinita ma siamo pronti a scommetterci non è finita con abbraccio finale tra Lanza tra Travizza e Leon che si devono chiarire sicuramente di quanto detto ma qui è uno spettacolo veramente importante la palla risolutiva di di Leon su questa diagonale un set veramente infinito adesso si ricomincia 0 a 0 con quarto parziale noi ci prendiamo una piccola grazie a tutti 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 grazie a tutti